È disegnata una chiti che punta alla sostenibilità, che punta ad essere una città capace di programmare, di progettare il proprio futuro, di captare i fondi europei. È una città molto diversa dalla sua politica perché per fortuna abbiamo potuto con la nostra amministrazione andare molto più avanti di quanto noi tutti ci aspettassimo. Oggi il convegno che si sta celebrando è un'evidente prova di come mettere insieme le forze, quelle regionali, quelle comunali, quelle comunitarie, possa determinare una svolta in qualche modo anche epocale per la nostra città, che abbandona un po' il suo vecchio stile Sormione per essere invece una nuova dinamica città, una smart city, una città che pensa alla innovazione ma che soprattutto protegge i grandi canali che sono quelli della qualità della vita e quelli dell'ambiente. Quindi su questo noi stiamo puntando, abbiamo puntato, abbiamo ottenuto finanziamenti per questo e per questo si realizzeranno le opere di cui oggi si parla. I percorsi stabiliti sono certi perché c'è sempre confusione riguardo tra il dire e il fare. Questa volta? No, questa volta come abbiamo dimostrato, l'aver programmato, l'aver fatto progetti, l'aver affidato a persone competenti l'organizzazione di tutto quello che doveva essere la proposta progettuale della città, ci consente di dire che non solo stiamo parlando di progetti ma stiamo parlando di cose che verranno realizzate, cioè stiamo parlando di soldi già arrivati, che arriveranno e che sono già stati stanziati e quindi oggi dobbiamo parlare delle opere che la città potrà avere di qui a pochissimo.